Serie B Win, tutti i colori della passione. Al Franco Ossola di Masnago, Varese e Verona vale il primo atto delle semifinali play-off di Serie B Win. Per scrivere il primo capitolo di un'impresa, Maran si affida a De Luca Neto Pereira, imbarazzo della scelta per Mandorlini, che sceglie Berrettoni con Juanito Gomez e Ferrari. Dopo il doveroso minuto di silenzio per le vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia, inizia il match agli ordini di Irrati di Pistoia. Una partita splendida per merito del Varese, dopo tre minuti e già 1-0 la bomba su punizione di Kurtic. Il terzo gol in stagione per lo sloveno, arrivato in prestito dal Palermo, è sorpreso Raffaele sul suo palo, dopo 170 secondi il Varese. E già avanti la risposta del Verona, minuto 8, altre zone per Ferrari, che rientra sul destro. Schiaccia troppo però la conclusione, ancora Ferrari tre minuti più tardi, undicesimo, il cross di Scaglia sale in cielo Ferrari, non inquadra però la porta di Bressan. Torna a spingere il Varese, minuto 16, il cross di Cacciatore per Neto Pereira. Raffaele è in ritardo, il pallone scheggia il palo, alla destra del portiere del Verona. Si rimane sull'1-0, il Varese che sfiora raddoppio con Rivas al minuto 21. E qualche secondo dopo, ancora Neto Pereira, si gira in un fazzoletto, calcia con il destro. Nessun problema questa volta per Raffaele. Si arrabbia Mandolini, il suo Verona non c'è nel finale di tempo, Berrettoni parte largo a sinistra, rientra sul piede preferito, calcia sul primo palo senza trovare il gol dell'1-1. Si va a riposo sull'1-0. Varese nella ripresa non c'è, la reazione degli ospiti, ancora la squadra di casa a fare la partita. Rivas, un rigore in movimento, al minuto 49. Al minuto 51, ancora Rivas questa volta con il sinistro. Non è il piede preferito e si vede. Sempre Rivas, inizia l'azione, minuto 59, Zecchin gli restituisce il pallone. Rivas calcia sul primo palo, trovando solo l'eserno della rete. 61esimo, il pallone per Cacciatore. Il cross sul primo palo, De Luca arriva puntuale, anticipa Mareco, ma non trova il gol dell'2-0. Sfiorato dal Varese anche al minuto 72. Kurtic per Cacciatore, non inquadra la porta di Raffaele. Il Verona nel secondo tempo è tutto qui, con il sinistro di Juanito Gomez al minuto 73. Allora 78esimo, Terlizzi va in cielo di testa, trova il gol del 2-0. Il secondo centro consecutivo, il quinto in stagione. Un gol che avvicina la Serie A alle Varese, che manca da 37 anni. Cacciatore prova ad arrivare sul pallone, ma non tocca. Il gol è tutto dell'ex giocatore di Sampdoria e Palermo. 2-0 Varese nel finale. Varese vicino alla Tris con il Diablo Granoce, che non inquadra la porta. È l'ultima emozione di una partita storica per il Varese. Finisce 2-0 al Verona. Sabato serve un'impresa.